Ciao a tutti, sono Luca Folegani, ho 31 anni, sono un avvocato e sono alla prima esperienza nel Consiglio Comunale di Busto Assizio. Sono stato eletto dopo un percorso che è iniziato da lontano, ho iniziato a fare politica che ero poco più di un ragazzino, avevo 17-18 anni. Ho sempre fatto per l'amore di Busto, perché far politica per me è amare la mia città. E' proprio questo amore della mia città che mi spingerà a dare il massimo per i cittadini di Busto, per i Bustocchi e per il loro bene. Infatti mi impegnerò per ogni categoria, con particolare interesse soprattutto per i giovani, che sono la categoria in cui ritengo di fare ancora parte, ma senza dimenticare comunque anche i disabili, gli anziani e tutti coloro che avranno bisogno. Io ci sono, ho bisogno di voi e insieme faremo grande Busto.